Il turismo ha riacceso i motori, ma la macchina dell'accomodation e dell'offerta complessiva di un territorio è sempre molto complessa da oliare. Richiede aggiornamento costante e una naturale propensione verso il futuro, che sempre più si chiama ottimizzazione delle procedure e digitalizzazione. È la strada che ha deciso di intraprendere Bressanone Turismo, coordinata da Werner Zanotti, ed in stretta collaborazione con Fortim, azienda specializzata nella strutturazione di corsi di formazione supportati dal Fondo Sociale Europeo. In questo contesto si sono tratteggiate le linee strategiche del futuro turistico dell'area di Bressanone, puntando forte sulla qualità del prodotto e meno sulla sua immagine, più concretezza e meno marketing con il supporto costante di Fortim. Il progetto è durato 512 ore e si è incentrato sulla acquisizione di nuove competenze, ma anche sulla fortificazione di quelle già possedute dai dipendenti dell'azienda. Si è rivelato utile, soprattutto in questo momento di emergenza legato appunto alla pandemia del coronavirus ed ha cercato di porre un po' un rimedio a quello che è stata una novità per tutti e cioè affrontare il mondo del turismo in un momento particolarissimo. Un lavoro dunque impegnativo e svolto costantemente su competenze specifiche. Le competenze fortificate sono state soprattutto quello del lavoro di gruppo, riuscire a presentare dei progetti accattivanti per la popolazione che tutti gli anni frequenta la Val di Sarco come Turista. L'è servita veramente molto perché le persone che hanno partecipato al progetto sono riuscite a capirne la validità, a coglierne il senso e quindi a dare un senso compiuto a tutta la formazione.